6 piante che sono bombe di ossigeno, depurano l'aria di casa e ne migliorano la qualità Questa eccellente pianta può aumentare i livelli di ossigeno in casa. Può anche assorbire il monossido di carbonio, il diossido di carbonio e la formaldeide. Ne basta una per migliorare l'aria di casa. 7. Sansevieria. È una pianta molto resistente, che ha bisogno di poca luce per la fotosintesi. Oltre a rimuovere le tossine dall'aria, la sansevieria è eccellente per produrre ossigeno durante le ore notturne. 8. Ficus. Particolarmente efficace per eliminare la formaldeide presente nell'aria. Bisogna fare attenzione perché può essere velenosa per gli animali domestici. Spatafillo. Rimuove tante tossine e sostanze chimiche dall'aria. Si consiglia di metterla in camera da letto. 8. Edara. Rimuove circa il 60% delle tossine presenti nell'aria già dopo 6 ore. Gardenia. È una delle piante che, oltre a depurare l'aria, ha effetti calmanti e può stimolare il sonno. 9. E' una delle piante che, oltre a depurare l'aria, ha effetti calmanti e può stimolare il sonno.